Signora cosa stai facendo? Non hai idea che abbia effettivamente disinstallato il mio Lucky Step. Ma cosa c'è di così buono nella configurazione di un'app mobile? Ho questo Lucky Step per fare soldi mentre cammino. Ah, posso ancora guadagnare camminando? Guadagna davvero! Ecco il Lucky Step. I nuovi arrivati accedono e c'è una ricompensa in denaro da richiedere. Puoi ottenere monete camminando ogni giorno. Le monete possono essere cambiate in contanti. Mentre raccogli la salute, puoi anche fare soldi. Vieni a scaricarlo e provi.